Rubinetti a secco nelle case dei pescaresi al massimo fino a domani mattina a causa della rottura della più grande tubatura che porta l'acqua da Chieti a Pescara. Una riparazione difficile ma portata a termine in poche ore dalle squadre di pronta reperibilità dell'ACA che hanno lavorato tutta la notte. La nottata prossima sarà quella importante che di ricarica di tutti i serbatoi, di tutte le linee, domattina dovremmo stare tranquilli. Il problema è che ieri c'è stata questa perdita su questa zona molto paludosa, una depressione dove c'è un limo argilloso che ha creato un problema di transito di mezzi meccanici. Cioè abbiamo avuto difficoltà proprio a transitare all'interno di questa, tant'è che abbiamo fatto l'intervento manuale. Il guasto riporta l'attenzione sui problemi delle reti idriche non esclusi dai bandi del PNRR ma non sempre viene garantita la priorità degli interventi. Il giardino ha bisogno di essere revampizzato, di essere rimodernato, quindi noi abbiamo un progetto per rifare questo tratto di circa 20 milioni, dovremmo portare avanti per trovare i finanziamenti. Invece altri due progetti sono stati finanziati col PNRR che sarebbe il tratto a Monte di Chieti, cioè da Bussi fino a Chieti. Il tratto a Valle di Pescara, cioè all'interno di Pescara, sono due progetti da 10 milioni di euro finanziati che andranno in gara quest'anno, dovrebbero essere giudicati entro settembre 2023 e quindi i lavori si svolgeranno nel 2024. Che estate ci aspettiamo? L'estate è un'estate, noi siamo al limite adesso, abbiamo un equilibrio perfetto tra l'acqua che arriva dalle sorgenti e l'acqua che consumano gli utenti. Una minima problematica, un minimo aumento di consumo o una minima riduzione di sorgente ci crea qualche problema di bilancio idrico. E' chiaro che la neve che c'è stata è stata importante, però a nostro avviso non basta, ci vorrebbe un altro po' di neve e ci vorrebbe il fatto che è importante che la temperatura non si alzi improvvisamente, perché se arriva una temperatura tale che scioglie tutta la neve in poco tempo sarebbe un disastro. Quindi noi dobbiamo avere questo accumulo di neve fino almeno a marzo. Le previsioni le possiamo fare intorno al mese di marzo, perché adesso è ancora presto. A febbraio è ancora inverno, contiamo che possano fare ancora precipitazioni, che ci possano ancora aiutare.